Il protagonista in campo ha dovuto fare una prestazione da alto livello, qualcuno ci è riuscito meglio, qualcuno meno. L'arbitro forse oggi non è proprio nella sua giornata migliore, però questo succede. Non sono abituato a discutere certe cose, dico solo che qua in mente oggi non è stata una giornata migliore, solo questo. Fa un po' specie, come nella prima partita contro Randa si è visto un giocatore che sta di fuori dal campo e quindi si è convalidato un gol. E poi non si riesce a vedere un giocatore che sta risalendo dal palo, non so se l'ho ripetuto qui o no, però diciamo che è cattiva sorte, non penso diversamente da questo. Non riesco a pensare diversamente, quindi è successo, è chiaro che se non fosse successo in questo modo sarebbe stato tutto molto meglio e magari adesso sarebbe un po' più facile anche per noi, però purtroppo i fatti sono questi.